Con lo slogan i vicini a chi crede, la Fira, la finanziaria regionale abruzzese, punta a diventare un solido riferimento per il sistema imprenditoriale regionale, con la mission di essere al servizio di imprese, start-up o strutturate e professionisti e di sostenerli nella loro crescita mettendo in essere tutti gli strumenti più funzionali al loro sviluppo. Il braccio armato della regione Abruzzo ha lavorato nel 2021 fianco a fianco della stessa regione per ridare fiducia alle imprese abruzzesi, accompagnandole con misure in cui Fira è stata talvolta soggetto gestore, finanziando in maniera diretta le imprese e altre invece svolto l'assistenza tecnica, istruendo le pratiche ed erogando i contributi concessi dalla regione Abruzzo. È stato un anno molto importante perché siamo stati al fianco della regione Abruzzo su tante cose, dall'emergenta Covid dove abbiamo distribuito insieme alla regione Abruzzo circa 10 milioni di euro sul fondo perduto, abbiamo portato avanti il discorso del progetto Abruzzo Freestart che ci ha permesso di andare a finanziare 45 progetti imprenditoriali con circa 4 milioni di euro, abbiamo portato avanti il discorso del Cratero Sismico 2009 dove abbiamo sviluppato il progetto di fare impresa Restart che comprende un finanziamento di 9 milioni e mezzo di euro a beneficio delle imprese del Cratero Sismico 2009. Tra le iniziative spicca il nuovo progetto Fira Fintech che consentirà alle imprese abruzzesi di poter accedere a nuove linee di liquidità attraverso la tecnofinanza. Noi unitamente siamo nella regione Abruzzo abbiamo sviluppato il progetto Abruzzo che cresce, Abruzzo che cresce comprende il progetto Fira Fintech. Fira Fintech è uno strumento di finanza tecnologica dove praticamente qualsiasi impresa come i professionisti potranno accedere al nostro portale internet tramite un partner privato, le imprese potranno accedere a servizi di finanza tecnologica dove sarà possibile accedere crediti che riguardano la pubblica amministrazione, crediti verso aziende private, crediti che riguardano l'import e l'export, crediti fiscali e crediti che possono riguardare anche il famoso ecobonus e il sismabonus. Ci sono anche delle iniziative rivolte alle start-up? Sì, per quanto riguarda le start-up Fira ha maturato tantissime esperienze negli anni, tanto che quest'anno abbiamo fatto l'exit di 10 imprese che ci hanno permesso di recuperare i 2 milioni di euro investiti in passato. In virtù di questa esperienza stiamo portando avanti un discorso di favorire l'incubazione di nuovo all'interno dell'azienda Fira dove stiamo promuovendo il discorso del Fira Oriente e del Fira Informa, dove noi vorremmo ricreare un ambiente ideale dove chi vuole fare impresa può avere un sostegno sia in termini consulenziali che in termini di finanziamento che possono riguardare la pubblica amministrazione, come tramite Fira si potranno accedere eventualmente ad investitori e di investimenti che provengono dal mondo privato.